La cura dell'ambiente passa anche da una transizione energetica, se sì, come è possibile realizzarla? Intanto è un grande lavoro che stanno facendo sia i cittadini italiani che le imprese. Noi vogliamo ricordare che siamo il primo paese in Europa sull'economia circolare e questo credo sia un fiore all'occhiello che dobbiamo comunque sempre sottolineare e credo sia importante comunicare quasi quotidianamente. Quindi questa è una delle occasioni che ci permettono di dire intanto questo. Lo facciamo come? Attraverso la decarbonizzazione, attraverso una transizione energetica però una transizione energetica che non si può fare attuare con uno schiocco delle dita da un oggi al domani ma è una transizione energetica che si sta compiendo negli anni. Noi abbiamo per 150 anni inquinato col motore a scoppio, dall'invenzione del motore a scoppio sono passati 150 anni e oggi abbiamo questo percorso da fare. Che è un percorso che ci fissa il Green New Deal europeo fatto proprio dal governo italiano nella fattispecie dal governo Conte all'epoca e che quindi tutte le aziende e i cittadini si devono adeguare. Cosa ci impone di fare il Green New Deal? Di utilizzare sicuramente le ferre, cioè le fonti rinnovabili, eolico, fotovoltaico e noi su questo stiamo lavorando e chiediamo a chi deve legiferare a tutti i livelli ma soprattutto a livello nazionale di rendere ancora meno burocratica purtroppo le pratiche per quanto riguarda le autorizzazioni perché abbiamo bisogno di uno sostenimento burocratico e di far diventare questo un paese normale anche in questo quindi dobbiamo correre sulle rinnovabili e dobbiamo però allo stesso tempo, visto che è una transizione energetica, utilizzare ad esempio fonti come il GNL che ancora ci servono perché altrimenti ad esempio le navi o le grandi flotte di camion delle grandi aziende non potrebbero continuare a utilizzare se non il gasolio. Grazie